Ultimata la procedura del project financing per il rinnovamento dell'illuminazione pubblica nei nuclei industriali, un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro da distribuire in vent'anni di gestione. Di tale importo, 611 mila euro saranno destinati agli interventi iniziali dell'unità territoriale della Val di Sangro per i comuni di Paglietta e Atessa, con la posa in opera di quasi 750 armature LED. Conferenza stampa questa mattina, proprio qui dinanzi alla Sevel, per parlare dell'area industriale. Quindi, Mauro Febbo, si fa luce? Sì, stiamo rifacendo un po' tutti gli interventi necessari e utili, soprattutto in un territorio dove le industrie sono importanti, fanno il PIL del nostro Abruzzo e Arap, dopo il risanamento economico che ha dovuto fare, sta facendo interventi importanti. Abbiamo cominciato con un project financing che riguarda l'illuminazione, tutti verranno cambiati, verrà dato un disegno diverso a questa zona per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle stesse aziende che ci hanno chiesto. Successivamente faremo altri tipi di interventi perché, con la nuova politica del nuovo governo regionale, stiamo lavorando sugli FSC, mettendo risorse importanti anche per fare interventi strutturali di manutenzione sul manto stradale. L'importo dei lavori? Un project financing di oltre 10 milioni di euro che riguarda chiaramente tutte le zone industriali dell'Abruzzo, in questo momento stiamo intervenendo su Casoli, sulla Val di Sangro, sull'Aquila e su Giulianova. Giuseppe Savini, che è presidente di Arap, che ha competenza appunto sull'area industriale, qui ci troviamo nell'area industriale di Val di Sangro, si parte dalle luci per poi passare alle strade e ai depuratori. Sì, come avevamo predetto nei mesi precedenti, tolta l'emergenza Covid, adesso ci concentriamo su quei progetti che avevamo avviato in un contesto in cui abbiamo trovato una situazione nelle aree industriali, quando ci siamo insediati con l'esercizio 2020, per alcuni versi un po' critica sul livello infrastrutturale, per mancanza di investimenti negli anni precedenti. Quindi iniziamo da un project financing di 10 milioni di euro, è uno strumento importantissimo, veloce, snello, che l'Arap ha utilizzato per andare a intervenire sulle emergenze segnalate dalle imprese e fare nuova luce sui nuclei industriali, perché luce nuova significa miglior servizio, sfruttare le reti che poi andranno rinnovate e mettere in sicurezza gli impianti e soprattutto dare sicurezza alle strade con una luce migliore, sia per i lavoratori che vengono qui in Val di Sacco, ma soprattutto anche per gli operatori economici, le aziende, gli autotrasportatori che devono fare la loro attività a ridosso delle imprese.